Inizia una settimana importante in casa Catania. Giovedì 13 il gruppo rossazzurro si radunerà a Torre del Grifo. L'indomani la partenza del ritiro in vista della nuova stagione. L'omonaco ed Argurio lavorano per consegnare a Lucarelli qualche altro rinforzo per poter gettare le basi tecniche per il futuro. Ormai in dirittura d'arrivo la trattativa per semenzato. Manca solo la firma dell'esterno destro del Pordenone che sarà a disposizione del tecnico toscano per l'inizio del ritiro. Giorni decisivi anche per Rashid Arma. Il marocchino è atteso dal ritorno dalle vacanze e con esso anche la scelta della nuova squadra. Tante le proposte ricevute, quella del Catania rimane tra le migliori. Sul difensore rimangono in piedi le possibilità Aya dell'Andrea e Blondet del Cosenza con Borghese in uscita da Livorno. In avanti concorrenza del Trapani per Caccavallo mentre in uscita Terracciano verso Lempoli Scoppa si avvicina alla Leonzio e Bucolo può rimanere inorganico. Cresce l'ottimismo a Messina ed Agrigento sul fronte iscrizione. In casa giallorossa è stata presentata la documentazione alla Covizoc valutazione verdetto nelle prossime ore. Altra giornata di lavoro, quella di oggi, per sanare la propria posizione. Probabile l'esito positivo ma con punti di penalizzazione dietro l'angolo. Giallorossi pronti all'eventuale ricorso entro il 12 luglio. Anche l'Akragas è vicino alla risoluzione. Dopo settimane di appelli infatti il patron Giavarini pare possa iscrivere la squadra e continuare da solo al comando l'avventura in biancazzurro in attesa dell'ingresso di qualche cordata. Primi rinforzi per il Trapani, ufficiale il francese Tagordot, vicino Caccavallo seguito anche dal Catania. In casa Siracusa escono due elementi offensivi. Sono Elio De Silvestro che passa al Gubbio e Lucas Longoni che ha mercato in Serie D. Infine la Leonzio è chiuso per l'esterno d'attacco catanese Pietro Arcidiacono, ufficializzata alla Michaevole del 23 luglio a San Giovanni in Fiore contro il Cosenza.